La vicenda è di quella da far accaponare la pelle. Una brutta storia che vede protagonista una neonata venuta alla luce nei giorni scorsi con sintomi d'astinenza da cocaina. La vicenda arriva dal Salento ed è talmente delicata che dall'as di Lecce preferiscono non commentare in alcun modo, anche perché nel frattempo è stato aperto un fascicolo d'inchiesta. Al centro della vicenda la mamma della neonata, che peraltro ha altri due figli più grandi. La donna viene sottoposta a parto cesareo nell'ospedale di Caratina, ma sin da subito si intuisce che la piccolina ha qualche problema. Il suo non è il classico vagito, ma un pianto disperato che non accenna a diminuire e che non si riesce in alcun modo a placare. Da qui i primi sospetti. I sanitari decidono di eseguire accertamenti su mamma e figlia per cercare conferme al terribile dubbio e le analisi di laboratorio confermano la sconvolgente verità. La piccola era in astinenza da cocaina. La bimba è stata così trasferita nell'unità di terapia intensiva del Fazzi di Lecce, dove è tuttora ricoverata, sebbene abbia superato la crisi ed è fuori pericolo. Potrebbe essere già dimessa se non fosse che bisogna attendere la decisione del Tribunale per i minori, che potrebbe affidarla ad una comunità. È escluso che torni a casa dalla madre, che, ascoltata, ha dovuto ammettere l'evidenza emersa dagli esami del sangue. Il padre della piccola, invece, un piccolo imprenditore agricolo, avrebbe dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che la moglie ha assumesse sostanze stupefacenti e, ancor meno, che lo abbia fatto durante tutta la gravidanza. Intanto si attende all'esito della delicata inchiesta, che potrebbe avere strascichi giudiziari.